dunque stamattina abbiamo la recensione di due manigliette una della Belkin per l'iphone 4 4s o ipod touch quarta generazione ed una della snap grip che va bene solo sull'iphone 5 e 5s qual è la differenza la differenza è che mentre quella per l'ipod touch si infila e si comincia subito a fare le foto con quella perché il comando va attraverso il porto di ricarica quello per l'iphone 5 ha bisogno di un speciale custodia con degli slot e si dentro però non funziona subito bisogna andare nelle preferenze accendere il bluetooth e poi pareggiare la maniglia con il telefono quindi richiede un po di tempo diciamo che fra le due io preferisco quella della Belkin alla prossima